Giacomo Goff, in arte Jackoff, siamo nel Lido, che è lo scenario del tuo video. Come mai hai pensato di venire qui? Parte per rappresentare la mia città in cui vivo e cercare di fare una cosa diversa dal solito video ripreso in una stanza, riprendere il panorama della mia città. Il video e il brano hanno un buon successo, tu sei contento di questa produzione? Sono molto contento perché comunque nel mio piccolo qualcosina ho fatto, però penso che ognuno se si impegna può arrivare a dei risultati, basta solo la voglia di fare e metterci passione. E poi anche inseguire un sogno magari, tu nasci come musicista però insomma. Sì, nasco come musicista e proprio questo, c'è proprio la passione per la musica che mi ha portato a fare questa produzione. Whisper parla sempre di una realtà sociale in cui un ragazzo o una persona adulta o così si trova in un determinato contesto in cui non si riesce a esprimere. Una difficoltà, vorrebbe urlare ma non può. I miei brani fino ad oggi non li ho mai mandati a nessuna etichetta discografica, ho fatto solo Top DJ, che sono andato a Milano a fare i provvini, erano andati molto bene, sono arrivato fino alla fine, solo che dopo non sono entrato in trasmissione, ma sono ritornato a casa molto soddisfatto per l'esperienza bellissima che ho provato. Io chi sono per meritarmi, per andare con un'etichetta? Cioè se devo andare con un'etichetta me lo devo meritare, quindi il percorso che sto facendo mi fa sì crescere sia a livello artistico, sia che se un giorno devo andare con un'etichetta e sarò pronto a tutto. Musica 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 Musica